Nelle ultime settimane mi avete invaso di messaggi sia qui su YouTube sia su Instagram Dove sei finito? Perché sei sparito da YouTube? Ragazzi, non sono sparito, ho dovuto mettere un attimo il progettino in stand-by però in questo video vi spiegherò tutto quello che dovete sapere Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video No, non sono scomparso da YouTube e finalmente con questo video riparte la programmazione di YouTube però giustamente vi devo delle spiegazioni Diciamo che l'ultimo video che avete visto qui sul canale era il 31 luglio 2023 cioè due mesi e mezzo fa la prova dell'ATM 2024 che tra l'altro vi è piaciuta veramente tanto tanto tantissime visualizzazioni, tantissimi commenti, quindi io vi ringrazio e spoiler, probabilmente faremo anche qualcosina di molto carino assieme a ATM aperte e chiusa parentesi Tutto parte da gennaio 2023 perché a gennaio 2023 diciamo che ho dato un cambio radicale alla mia vita nel senso che ho deciso di cambiare lavoro quindi sono stato 11 anni un impiegato in ufficio e ho deciso di unire la mia passione e farne un lavoro cosa molto difficile, è stata una decisione molto difficile però ho detto o ci provo adesso o mai più e quindi io non voglio vivere con il rimpianto di non averci mai provato e quindi mi ci sono buttato a capofitto Ho unito la mia passione della fotografia e del motocross quindi in questo momento ho aperto un'attività e sto facendo il fotografo e videomaker sia nel campionato italiano, campionato regionale, motocross e anche il campionato italiano velocità faccio foto e video alle gare quindi nasce tutto da gennaio ovviamente sono cominciati i campionati quindi io nei weekend il 98% delle volte sono sempre in pista a fare foto e video e quindi andare in moto comincia ad essere un pochino complicato e quindi voi comunque avete sempre visto video anche che ho registrato prima di partire insomma con il mio lavoro nuovo non vi ho mai fatto mancare i video però a un certo punto sono arrivato a un punto che non riuscivo più a gestire un po' la cosa perché come vi ripeto ero sempre in pista a fare le foto e video e era difficile anche andare in moto in mezzo alla settimana poi dopo purtroppo c'è stato anche il problema che mi sono dovuto rioperare al polso a maggio quindi sono stato fermo altri due mesi poi dopo io il caldo lo soffro da morire quindi l'estate per me è un problema grande quindi andare in moto è un problema poi dopo ad agosto comunque in ogni caso non avrei pubblicato nessun video perché c'è un calo drastico delle visualizzazioni perché giustamente siamo tutti in ferie siamo tutti in vacanza e non vogliamo stare appiccicati a uno schermo per 15 minuti per vedere i video su YouTube giustamente quindi ho usato questo tempo per cercare di spingere un po' di più la mia attività di fotografo e videomaker io mi sono preso solo una settimanella in montagna perché ne avevo proprio bisogno poi dopo a settembre i campionati settembre-ottobre ripartono a bomba perché ci sono tutte le ultime date e tutt'oggi a ottobre ancora ho fatto un filotto enorme di gare e non sono mai riuscito ad andare in moto siamo a fine ottobre io ho ancora le gare fino a più o meno metà novembre in tutto questo tempo però ho cercato anche di lavorare un po' nel sottobosco nel dietro le quinte per portarvi nuovi contenuti e devo dire che ci sono delle novità abbastanza succulente nel prossimo video vi sparerò la prima che riguarderà questa moto qua più avanti vedrete qualcos'altro di molto interessante anzi provate a dire quale sarà la novità vi aspetto qui sotto nei commenti quindi se riparte a bomba qui su youtube soprattutto ripartiremo con i vlog in pista perché voglio cercare di alzare un pochino il livello voglio alzare un pochino l'asticella delle mie performance perché più o meno sono due o tre anni ma non sono mai riuscito a fare uno step effettivo anche perché purtroppo ho fatto pochissime ore in sella giusto per farvi un esempio questa KTM ha sette ore quindi io da metà dicembre che l'ho comprata in totale tra questa e le Yamaha che ho avuto per due mesi in pratica in un anno ho fatto nove ore e mezzo che voi capite sono pochissime cioè fare un miglioramento significativo in moto bisogna fare tante ore bisogna fare almeno almeno dalle 30 alle 40 alle 50 ore all'anno per vedere un miglioramento significativo c'è da dire anche che non sempre le ore in moto significano migliorare però diciamo che fino a un certo livello di decenza bisogna andarci per forza in moto perché la palestra va bene correre va bene la bici va benissimo va tutto benissimo però lo sforzo fisico che sia in moto non c'è con nessun'altra disciplina per forza bisogna avere almeno sulle schiena un tot di ore in moto la mia promessa è quella di cercare di fare un percorso migliorativo spero che voi siate con me e mi diate supporto con un bel like l'iscrizione perché per me l'iscrizione è la cosa fondamentale a voi non costa nulla è solamente un tastino però a me fa un'enorme differenza e anche un commentino che male non fa quindi ragazzi state tunni stay tuned perché ripartiamo con la programmazione qui su youtube un'altra cosa che vi devo dire è che sposterò la programmazione dei video non più dal lunedì ma al martedì alle 18.30 perché il lunedì è molto a ridosso del weekend e non riesco a preparare i video perché se lavoro il sabato e la domenica poi non riesco a pubblicare il lunedì perché è troppo vicino quindi pubblicherò il martedì ore 18.30 da qui in poi vi ricordo i prossimi eventi che saranno il 28 e 29 ottobre ci sarà l'MX Pro Tour Yamaha quindi si potrà provare tutta la gamma Yamaha da cross a Ottobiano io ci sarò il sabato per provare la nuova YZF 250 2024 super mega attesissima e non vedo l'ora di provarla cosa molto importante mi raccomando se volete provare le moto dovete prenotare il test vi lascio qui sotto in descrizione il link diretto al modulo di iscrizione mi raccomando se non vi iscrivete non vi fanno provare le moto quindi mi raccomando iscrizione e fatelo presto perché già i posti stanno per finire quindi vi lascio qui il link qui sotto se venite il sabato ci sono anche io così almeno scambiamo quattro chiacchiere assieme altro evento EICMA io molto probabilmente mi sto organizzando per andarci il giovedì quindi senza avere il casino del sabato e la domenica perché se no non si riesce a vedere niente penso di andare giovedì se qualcuno è lì mi raccomando fermatemi una bella foto assieme e facciamo due chiacchiere il venerdì e il sabato sarò nei dintorni per provare qualche pista nuova vi terrò aggiornati sui miei canali social Instagram e Facebook TikTok ma principalmente su Instagram quindi andatemi a seguire su Instagram se volete sapere tutti gli aggiornamenti dell'ultimo minuto bene ragazzi mi sembra di avervi spiegato tutto scusatemi se sono stato assente in questi ultimi periodi ma credo che capiate che quando uno apre un'attività del genere da zero è molto difficile quindi sto spingendo davvero tantissimo in pratica non sto dormendo da una vita però va bene così è quello che ho scelto di fare e che spero duri nel tempo noi ci vediamo al prossimo video mi raccomando occhio perché martedì prossimo ci sarà una bomba quindi vi aspetto nei commenti mi raccomando il tastino iscriviti e noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao